Cari amici, ben approvati in questo mio canale artistico dedicato al mondo del disegno, dell'acquerello e da un po' di tempo a questa parte di modellismo, un modellismo tutto particolare però, infatti mi occupo della creazione di questi pezzi unici, questa costruzione rappresenta un'osteria del basso medioevo, per costruirla ho utilizzato esclusivamente del cartone, avremo modo di entrare nei particolari, dovete solo divertirvi tantissimo e provare insieme a me a costruirla c'è il detto che dice sbagliando si impara, io sto facendo così, spero solo che vi divertiate nel seguirmi e sperimentare le tecniche che di volta in volta proporrò nei miei tutorial vi auguro tantissimo divertimento e soprattutto tante soddisfazioni come le sto ottenendo io grazie a tutti 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 grazie a tutti